Venerdì 2 dicembre alle 17.30 sono alla biblioteca di Marghera a fare una chiacchiera con Andrea Giovannetti per parlare delle storie, per parlare di come si costruiscono, di come si raccolgono, di come si raccontano e di come quelle storie ci hanno cambiato. Racconto un pochettino del mio libro, ma non solo. Ciao, ci vediamo lì!